L'idea è nata circa un'estate fa, nell'estate del 2014, quando vidi su un quotidiano nazionale l'ennesima polemica degli editori indipendenti nei confronti del premio Strega, che è un premio straordinario, di straordinaria importanza e rilevanza culturale, ma che premia sempre soltanto 3-4 grandi editori. Allora ho contattato gli editori indipendenti che si sono organizzati intorno a Ginevra Bompiani di nottetempo e ho proposto loro di farlo a Bari, un premio dedicato proprio agli editori indipendenti, perché l'indipendenza, l'autonomia culturale sono un valore indispensabile per garantire il pluralismo, cioè la ricchezza, la circolazione delle idee e quindi in buona sostanza la democrazia e i valori costituzionali. Questo premio vuole fare proprio questo, vuole mettere al centro la bellezza dei libri scritti da grandi autori ed editi, da grandi editori che fanno della ricerca della qualità, della cura tele, della cura editoriale, la ragione della propria esistenza.